Ancora un maxi blitz antidroga a Campo di Marte nel quartiere di Saione, uno degli angoli più caldi della città, teatro troppo spesso gli episodi di microcriminalità. Impegnati questo pomeriggio decine di agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Arezzo, in azione anche le unità cinofile con i cani antidroga arrivati da Firenze. L'operazione segue ad un'altra avvenuta solamente due settimane fa, anche in quel caso con un notevole dispiegamento di forze dell'ordine. In manette erano finite due persone, per altre sei invece erano scattate le denunce. Erano stati infine sequestrati alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, circa 200 grammi in totale.